Geme ancora una volta. La visione truce di quello che ha fatto ondula lenta tra l'assassino e la donna che ha ucciso. Non c'è ancora la pietà del pentimento. L'io di pietra dell'uomo non invoca ancora chi era incinta di lui. La voce umile dell'amante non giunge ancora alla coscienza dell'assassino. L'ira del coltello ghigna ancora dentro di lui. La condizione umana geme ancora una volta. Commento Per sviluppare il pentimento non basta una sola vita, ma servano le vite e le vite che fanno crollare l'impero dell'io. Per sviluppare il pentimento non basta una sola vita, ma servano le vite e le vite che fanno crollare l'impero dell'amante.